Un'anima forte, risiede in un corpo forte, e in una mente forte. E in una mente forte. E in una mente forte. E in una mente forte, e in una mente forte, e in una mente forte. E in una mente forte, e in una mente forte, e in una mente forte. E in una mente forte, e in una mente forte, e in una mente forte. E in una mente forte, e in una mente forte. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!